we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci chiuderone da bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio velocissimo video io sono chiuder e giustamente ragazzi nella prima settimana ci stiamo chiedendo tutti dove diamine è la stella segreta che dobbiamo sbloccare beh ragazzi intanto vi faccio vedere molto velocemente la schermata di caricamento che ci verrà data al completamento di tutte le sfide di questa settimana e se notate ragazzi proprio sopra alla minigun ci sono delle coordinate ragazzi ve la faccio vedere meglio eccola qua ragazzi coordinate che dicono i 5 i 6 j5 j6 e in poche parole ragazzi il punto che dobbiamo raggiungere è proprio quello che vi ho pingato come vedete siamo dove c'è la casa dei supereroi alla sinistra della pista da carte insomma avete capito tra rifugio e la pista e dobbiamo molto probabilmente raggiungere questa piccola zona che come vedete è diversa dall'erba e qui apparirà ragazzi la stellina di questa settimana se non dovesse essere qua penso che in realtà non ci siano molte altre soluzioni beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao ciao